Il Vangelo di oggi ripresenta prima le tentazioni di Satana subite da Gesù e subito dopo l'invito alla conversione. In queste poche righe della parola di Dio possiamo leggere l'invito ad orientare la propria vita secondo le indicazioni del Signore, proprio come indicato nel Salmo 25. Questo Salmo ci presenta un uomo che si sente circondato da pericoli e minacce. Ha bisogno di trovare la strada giusta che lo porti finalmente al sicuro. A chi chiedere aiuto? Nella coscienza della propria fragilità alza gli occhi e grida al Signore. L'esperienza del camminare è l'occasione di una nuova intimità con Dio, di abbandono fiducioso al suo amore fedele, nonostante la propria infedeltà. Spesso, dopo aver percorso le strade della nostra presunta autosufficienza, ci troviamo disorientati, confusi, più consapevoli dei nostri limiti e delle nostre mancanze. Vorremmo ritrovare la bussola della vita. Questo Salmo ci spinge all'esperienza nuova e rinnovata dell'incontro personale con Dio, alla fiducia nella sua amicizia. Ci offre il coraggio di essere credoci le sue insegnamenti che ci invitano costantemente ad uscire da noi stessi per seguirlo sulla via dell'amore che Egli stesso percorre per primo per incontrarci.